La situazione covid in provincia di Teramo non è bella, lo afferma senza mezzi termini il direttore generale dell'Asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, che ammette come i servizi ospedalieri stiano tornando a soffrire dal 2 agosto scorso. Attualmente sono 21 i contagiati accertati sul territorio, 12 ricoverati al Mazzini, 5 nella RSA di Contrada Bellocchio, 2 i decessi registrati, uno la scorsa settimana e l'altro proprio questa mattina. Pierluigi Tarquini, primario di malattie infettive del nosocomio Teramano, è pronto con il suo staff ad affrontare la prossima ondata di covid. Se a un cittadino viene la febbre a 38, cosa deve fare? La persona non deve pensare subito il covid, vado in ospedale. Questo potrebbe essere un autogol. È sempre meglio ragionare perché avere una febbre anche 38-39 può essere gestita tranquillamente a domicilio con i soliti rimedi sintomatici, dalla tachipirina, riposo a letto, eccetera. La febbre che merita di andare di corsa in ospedale è una febbre associata a una cefalea violenta, una cefalea mai sperimentata, un dolore forte, allora lì bisogna andare in ospedale senza storie. Altrimenti si rischia di intasare i pronto soccorsi, di avere un servizio chiaramente più lento e di magari innescare tutta una serie di accertamenti inutili che poi i vantaggi al cittadino non ne dà perché magari rischia di avere una somministrazione di una terapia antibiotica che nelle forme virali non ha nessunissima efficacia. Importantissimo per tutti sarà effettuare la vaccinazione antinfluenzale. L'Asla di Teramo inizierà a breve una massiccia campagna di sensibilizzazione tra la popolazione. Inizieremo il primo di ottobre con i medici di base per le persone tra 65 anni. Intanto la popolazione più vulnerabile la cominciamo a salvaguardare da questa influenza. Dopodiché passeremo dal 15 ottobre alla vaccinazione di massa. E intanto si mette a fuoco la causa di nuovi focolai covid a Teramo. Sarebbero soprattutto i più giovani che nei momenti ricreativi non userebbero precauzioni di distanziamento o mascherine contagiando così i propri nuclei familiari. Il sindaco D'Alberto è pronto a riunire il comitato ristretto dei sindaci per attuare misure drastiche di controllo e di sanzioni. Io ho grande fiducia che ci possa essere un'inversione di rotta, una consapevolezza che deve puntare su un aspetto. Non possiamo permetterci in alcun modo di tornare indietro. Sentiamo fortemente questa responsabilità tutti, perché senza la responsabilità di tutti la risposta, quale che sia delle istituzioni, quale che sia la risposta normativa, che sia diversa da un nuovo lockdown, che a questo punto andiamo ad adottare una misura nuovamente restrittiva come quella del passato, ma non penso che sia questo quello che vogliamo. Senza una risposta congiunta da parte dei singoli cittadini, insieme alle istituzioni che devono fare di più, difficilmente riusciremo a dare risposte efficaci. Grazie a tutti.